Mi viene difficile parlare di questa partita, è una partita nata male sotto tutti gli aspetti. Avevamo studiato una formazione in settimana per le informazioni che avevamo avuto di questa bellissima squadra, devo dire, una squadra che mi ha molto molto impressionato rispetto ad altre partite. I ragazzi sono stati fenomenali, hanno giocato una partita a tutto cuore, grinta, e tutto quello che c'era da mettere, gambe, sono stati sfortunati, hanno preso due pari, una traversa e occasioni mancate. Io credo che alla fine il meritato pareggio ci doveva stare. Facciamo di necessità virtù, pensiamo alla prossima partita e anche perché giocare un intero primo tempo, dal ventesimo minuto in 10 contro 11, ripeto, contro questa squadra che come noi giocava palla a terra, copriva benissimo tutti gli spazi, siamo andati in netta difficoltà. Ho dovuto fare dal trentesimo tre cambi azzardati per coprire le fasce laterali, poi ho giocato tutta la partita in nove, cambiando modulo in ogni situazione di gioco e io credo che, ripeto, il risultato del pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, anche se loro sono stati bravi in questa occasione su un svarione del portiere a mettere la palla dentro. Poi posso affermare che la difesa, soprattutto con un uomo in meno, non ha sofferto per niente, ha giocato la sua onesta partita. Dico solo bravi ai ragazzi e ora pensiamo alla prossima come sempre.